Bella ragazzi, bentornati da The Kids Allora ragazzi, oggi non abbiamo mai fatto un video del genere Andremo a scambiare personaggi famosi No, personaggi normali, cioè con personaggi normali e con personaggi famosi Io, visto che lui non si sentirà bene, cosa dirà E poi però io... Non si sentirà bene perché tipo... Non so se... perché qua c'è il microfono Se io tu mi tolgo in mente Allora vabbè, vai Allora ragazzi, iniziamo Guarda il signore In genere se sto andando, vai Guarda Tu sei quella persona che va in televisione Aspetta, ci sto vedendo Adesso arriva Chi è risultato Che fai? Che sto dicendo? E' un po' sfocato, non capisco perché E' un po' sfocato, non capisco perché E' un po' sfocato, non capisco perché E' un po' sfocato 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 Questo qua, questo diventa un bastardo E' un po' sfocato E' un po' sfocato Sì, se ne arriviamo a 5 like ragazzi No, facciamo 10 like 10 like Facciamo altri scherzi Sì E ci scrivete nei commenti Si stava ammazzando Chi? Si stava ammazzando La Filippina? Sì Vabbè comunque, alla prossima ragazzi Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao